Non me l'aspettavo, prima colpo di centrare il bronzo, anche se ho lavorato per questo obiettivo. Vediamo le prossime impiedi di migliorare. Niente, lo sport è soprattutto il divertimento e con gli scacchi si provano tante emozioni, quindi pensiamo di essere uno sport in piena regola, di avere problemi come tutti, infortuni come tutti. Abbiamo anche la preparazione fisica da curare, quindi ci sono tanti aspetti. Negli scacchi è predominante l'aspetto mentale, cioè il doping, sono tutte le cose che uno sportivo deve curare. Fisicamente io di solito faccio lunghe camminate prima di giocare, tutti i giorni, per liberarmi la mente prima della partita e per essere più scarico, non avere pensieri. Doping negli scacchi all'inizio era soprattutto caffeina, questa sostanza che stiamo l'anno. Adesso è di più informatico, l'aiuto del computer, queste cose qui. Sì, c'è molto meno di vario, meno di stacco dal primo al secondo. Gli altri attività si è cresciti moltissimo e dopo quattro anni in attività si sentono. Non è facile tenere alta la tensione e la concentrazione, giorno per giorno cercherò di vivere, giornata dopo giornata cercherò di dare i maschi, di partire per poter vincere oppure arrivare meglio più spesso. Però già non ero sicuro perché non sapevo il livello degli avversari, che in precedenza dovevo un attimo indagare, guardando. Mi sembravano che andassero più forti. Andavano, vanno, vanno forti. Mi ho dovuto cercare di dare il massimo. E fino a settimana scorsa per dirti, non sapevo a che punto ero, e soprattutto ero un po' attivante, se ero a un buon livello o meno. Però dopo, scendo qua, confrontandomi con altri attiretti che fanno i gara fish, ho visto che stavo cominciando ad entrare intorno. Questa medaglia è la dedica a mia mamma, che non è potuta venire, che però è sempre col cuore e soprattutto è stata la prima tifosa.